Nuove tariffe, aree e parcheggio a pagamento nella città di Agropoli. A stabilirlo con delibera di giunta 97 del 29 marzo 2019 è la giunta comunale. Nello specifico, si legge nella delibera, sarà istituita una nuova area a pagamento relativa al parcheggio di via Lungotestene e Piazzetta Lidoazzurro con la tariffa di un euro all'ora o frazione. Individuata inoltre una nuova area a pagamento in via della Lanterna in località San Marco e prevederà la tariffa di un euro per la prima ora e 50 centesimi le ore successive. Le tariffe cambieranno anche per i parcheggi della zona portuale, del castello e della località Trentova con tariffa di due euro la prima ora e di un euro le ore successive. Inoltre in occasione di manifestazioni culturali e sportive saranno istituiti nuovi parcheggi presso lo stadio Guariglia, presso l'area dove settimanalmente si tiene il mercato e presso il Cineteatro Edoardo De Filippo con la tariffa di 3 euro intera giornata. Tre zone invece saranno individuate al centro presso la Licina e Lidoazzurro e saranno completamente gratuite per i cittadini residenti che esibiranno un apposito contrassegno.